L'assessore regionale uscente alla sanità Silvio Paolucci risponde alle accuse mosse dal consigliere di Forza Italia Mauro Febbo in merito ai conti definiti devastanti lasciati in eredità dai manager delle Asla Bruzzesi sulla scorta di una documentazione proveniente dalla Corte dei Conti. Accuse infondate per Silvio Paolucci, oggi capogruppo in regione del PD, che risponde così a Mauro Febbo. Io credo che il consigliere Febbo abbia soltanto in mente di mettere da un lato le mani avanti perché rispetto alle promesse della campagna elettorale io credo che purtroppo non saranno in grado di mantenerle e pertanto mettere un po' le mani avanti consente di dire non lo posso fare perché qualcun altro non mi ha consentito di poter proseguire sul profilo di quelle promesse. E dall'altro, questo è il vero punto, voler applicare uno spoil system che la legge non permette perché l'intenzione vera del centrodestra una volta arrivati al potere è quella di impadronirsi dei direttori e della dirigenza delle ASL. Voglio ricordare a loro che nel 2014 noi avemmo come eredità i manager indominati e individuati dal centrodestra e li tenemmo per altri 12-24 mesi, ovvero fino alla loro scadenza. Nessuno gridò lo scandalo e nessuno fece un'aggressione di tale portata perché l'intenzione attuale è quella non di occuparsi della programmazione sanitaria, non di mettere al centro i pazienti ma di prendere posto nelle poltrone della direzione della gestione delle risorse della sanità. Ricordo a Febo al centrodestra che c'è un prossimo tavolo di monitoraggio che è bene che essendo al governo e non più all'opposizione si comincino oggi a prendersi tutti loro insieme le loro responsabilità e che si occupi dei pazienti, della programmazione sanitaria lasciando perdere la gestione perché della gestione se ne occupano le asle come sempre è avvenuto e come indica e dice la norma.